ciao a tutti ragazzi bentornati per questo video di oggi sul mio canale oggi andiamo a parlare molto velocemente delle novità apportate da image line dentro fl studio 12.3 cominciamo subito con la prima allora la prima che cosa consiste posso prendere una clip audio me la trascino dentro al mio bellissimo alla mia bellissima playlist come sapete che se io voglio andare a modificare quello che è il mio tempo ovvero fare time stretching se allungo questo come ricordate bene vado a cambiare il pitch della mia traccia come sentite invece che cosa succede io non voglio cambiare il pitch della mia traccia voglio fare lo stretching allora clicco qui vado modalità stretch una volta che ho fatto modalità stretch mi assicuro che stretch qui sia selezionato e sentite sentite tempo normale allungo rallento senza modificare pitch velocizzo senza modificare pitch questa cosa è fattibile anche in un altro modo che cosa vado a fare vado a dare tools macros dopo aver fatto macros vado a dare switch real time stretching for all audio clips quindi quando io do ok perché mi dice che è stato disattivato la modifica manuale dell'audio di alcune clip che potrebbe essere richiesta in questo caso do ok e sentite che succede mando questa e modifico i bpm attivando quella macro senza fare un minimo di stretching e io manuale in questo modo riesco a cambiare il tempo della mia della mia clip audio solo modificando i bpm da lì sopra seconda novità apportata al fl studio 12.3 è che io posso aprire ad esempio il piano roll del sampler prendere un file audio e trascinare questo file audio dentro al piano roll allora che cosa succede nel momento in cui trascino il file audio dentro al piano roll ragazzi non lo faccio perché sennò si mette qua dentro cioè fondamentalmente succede che questa onda audio vabbè facciamolo questa onda audio come vedete viene messa all'interno del mio piano roll per fare da punto di riferimento per vedere dove batte il kick per vedere dove ho le percussioni e per permettermi come vedete si apro un qualsiasi altro piano roll di capire dove sto scrivendo e cosa sto scrivendo vedete quello rimane ben fisso lì adesso ragazzi chiudo e riapro fl studio farò un bel taglio in modo da non avere questo per i piano roll che sennò ci confonde solo le idee ok ok eccoci qua ragazzi siamo tornati dopo il riavvio di fl studio possiamo passare alla terza novità la terza novità è sempre nel nostro bellissimo piano roll allora diamo freccettina helpers scala highlighting ovvero mettere in risalto illuminare evidenziare le scale possiamo decidere che scala evidenziare per esempio una diminuita e possiamo decidere qual è la root note ovvero la nota di radice da cui partire per la scala diminuita ad esempio sceglierò in f come vedete in modo più chiaro sono state evidenziate quelle che sono le note della diminuita nella nota di radice che io ho scelto ovviamente se volessi andare a tornare alle impostazioni standard helpers scala lighting black note sono tornato ad evidenziare semplicemente i tasti neri e normalissimi poi posso andare a fare view dopo view keyboard style posso scegliere fra varie modalità vedete modern è cambiato è diventato in una grafica un po più moderna posso andare a dirgli di fare flat vedete è piatto ed è buono come tipo di utilizzo perché ci fa vedere meglio i tasti neri oppure posso andare a scegliere l'ultima che è che port style list e abbiamo una lista di note che secondo me è un po più scomoda perché cambia poco nella gamma dinamica dei colori e può diventare un po confusionario io scelgo ovviamente sempre il classic e ovviamente come vedete vi verrà automaticamente in mente come mai ci sono segnate tutte le note su ogni singolo tasto per comodità da adesso in poi potete andare ad attivare view key labels all notes solo le note radice ecco come si presenterebbe fl studio potete dirgli di andare ad evidenziare nessuna nota oppure potete dirgli di andare a evidenziare tutte le note come lo tengo io dopo di che possiamo passare a un'altra novità portata all'interno sempre del piano roll che è il nostro tool di pittura painting cosa succede vi ricordate prima scrivevate una linea di note poi come scrivevate direttamente quella sotto vi spostava le note in cima adesso invece no basta con un semplice cliccate questo qui e andate a fare questo tipo di scrittura vedete posso scrivere un'altra riga un'altra riga ancora senza andare a muovere quelle che sono le altre note se voglio muovere queste note sulla linea tengo premuto shift clic sinistro e come vedete muovendomi in avanti tenendo premuto il clic sinistro posso decidere dove mettere ogni singola nota succede anche che possiamo andare a disegnare note aggiuntive come vedete senza andare ad affliggere quello che è stato scritto in precedenza con lo strumento che viene chiamato paint più ma è un painting che viene utilizzato per i drum sequencer ovvero quando abbiamo al posto delle note qui abbiamo i vari strumenti un drum tom e chic e cose varie altra novità del nostro fl studio sono le grafiche vettoriali in che senso le grafiche vettoriali fede partiamo subito dall'aprire il nostro amico dove è gross beat eccolo qua il gross beat finalmente può essere modificato di grandezza come anche altri plugin questo ci permette di lavorare in un modo molto 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 più chiaro ad esempio clicchiamo sidechain e posso andare ad editare benissimo quelle che sono le varie curve se clicco questa modalità che viene chiamata envelope mode o le vado a chiudere quello che è il grafico e posso decidere di andare a selezionare solo i miei bei patternoni già pronti riclicco qui e ricompare in modo naturale e normale altra modifica è stata fatta sempre in unità vettoriali nel nostro amico Maximus che anche esso può essere ridimensionato per andare a lavorare come vedete in modo più semplice possiamo passare alle bande avere una modifica delle varie bande in modo estremamente più chiaro e più preciso potendo zoomare più o meno le funzionalità rimangono quelle che sono sempre state nel Maximus integrate poi abbiamo avuto delle modifiche a livello di grafica sul nostro Fruity Limiter anche esso si può modificare adesso in unità vettoriali che ci permette di avere un grafico più grande e di andare a lavorare con selezionando compressore con una threshold, un ni, una ratio molto più precise nella visualizzazione del delimiter stesso mentre questo entra in azione altre modifiche sono state applicate poi al Fruity Law Filter anche esso adesso espandibile per una miglior modifica dei nostri valori di pattern se adesso per esempio selezionassi una preset basic 2 come vedete posso modificare le varie cose essendo ovviamente un po' più chiaro e preciso potendo e avendo la possibilità di zoomare sul plugin integrato questo è stato fatto anche per il nostro carissimo picture ragazzi scusate ho letto male io ho letto male io non lo trovo ma appena lo trovo vi assicuro che l'avrò trovato dov'è il patcher? non c'è il patcher cerchiamolo un attimo queste sono le parti più belle dei miei video che io non taglierò mai ok andiamo a chiudere non so perché non era presente il patcher e che c'è sempre stato e comunque il patcher eccolo ragazzi è arrivato finalmente io non ho chiesto un picture io ho chiesto un patcher ok eccoci qua ha integrato il picture nel patcher no 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 fermi un attimo tutti leva tutto è bello ragazzi senza tagli bellissima sta cosa nel patcher ovviamente sono state integrate delle bellissime preset che andiamo subito a vedere preset eccoci qua grazie a Wyslab abbiamo 1k compressor che ci apre vedete direttamente qualcosa per andare a fare la compressione ci apre direttamente il limiter e ci fa avere una leva di compressione che come vedete va a modificare threshold, knee, ratio, attack, release cioè con questa leva possiamo decidere un livello di compressione generale grazie sempre a Wyslab che ha fatto un ottimo lavoro ragazzi 1k delay potrei mettere vado a cambiare come vedete anche qui abbiamo dei vari strumenti per il delay selezioniamo il time da qui lo possiamo selezionare anche da qui su tempi lentissimi su tempi velocissimi su tempi che sono quelli usual ovvero quelli già selezionati all'interno dei vari scalini come vedete della rotella del time poi possiamo cambiare il feedback mode ovviamente il panning che sentirete come fase vedete panning che viene messo in relazione con l'offset poi possiamo passare in modalità totalmente wet o disattivare la modalità wet insomma vari funzionamenti questo vale per il detuner, la distorsione, il limiter, il riverbero un altro tipo di compressore, un altro tipo di limiter e altri tipi di preset che se vi facessi vedere tutti e tutte il video durerebbe 4 ore quindi passiamo avanti e procediamo nelle altre novità un'altra novità è stata apportata con il nostro caro leviamo questo add e cerchiamolo subito citrus è stata modificata tutta la grafica del citrus gode adesso anche lui di unità vettoriali come vedete può essere ingrandito e nei vari preset sono stati aggiunti i preset di se li trovo ecco lì di seamless r seamless si vuole far chiamare seamless che sono delle preset di questo giovane ingegnere del suono che sono fatte molto bene sentiamo ad esempio il nostro acoustic kick che è fatto molto bene ed è molto valido oltre questo ragazzi possiamo andare finalmente a dare delle preferenze midi se attacchiamo uno strumento midi ad FL Studio per prima cosa diamo opzioni audio settings andiamo in midi quando comparirà qui ad esempio qui sotto ci sarà una pianola midi cliccate sulla pianota e dovete cliccare in able per poter attivarlo e utilizzarlo in FL Studio che succede che quando voi premete le note ad esempio andiamo a fare se io clicco questo cambia la cosa che io sto suonando invece che succede do il tastino destro qui vado a dare receive note from typing keyboard lo blocco come vedete anche se clicco qui cliccherò qui posso cliccare qui bloccandolo io sulla tastiera suonerò solo le note del kick qualsiasi cosa io clicchi continua a suonare il mio kick quindi questa è un'ottima cosa se vogliamo suonare ad esempio sulla nostra tastiera il kick sulla nostra invece tastiera midi collegata esterno USB un'altra cosa per sbloccarlo diamo a lock e tutto torna alla normalità quindi clicco qua e c'ho i vari suoni tranquillamente senza più dovermi andare a fare locking su un solo strumento quindi questo è una funzionalità molto importante a livello di preferenze midi e quindi di funzione lock se io clicco con lo shift e il click sinistro come vedete posso bloccare anche la modalità di uno strumento che cosa significa questo? se io mando in solo questo strumento questo è stato lockato per essere sempre attivo pure che ho mandato in solo solo questo questo è stato bloccato che cosa succede? per sbloccarlo shift tasto sinistro e se io mandassi in solo questo vedete si disattiva questo quindi quella è una modalità di blocco stessa cosa se do shift tasto sinistro blocco questo anche se vado ad attivare gli dico fammi solo questo vedete attivo disattivo tutto questo è stato bloccato per rimanere sempre attivo questo ci è utile in fase di mixing e di mastering quando ci serve uno strumento attivo fisso senza dover fare ogni volta solo però seleziono quello però aggiungo quello quindi sto bloccando lo stato di questo suono o di un suono nel mio channel rack detto questo ragazzi abbiamo ancora delle novità e fra le novità ragazzi abbiamo il transient processor andiamo a dare uno strumento nel mixer ah altra novità per dare uno strumento nel mixer posso dire typing value 20 e avrò assegnato il ventesimo canale del mixer cosa che prima non era possibile bpm stessa cosa succede con questo typing value 140 e voilà e ho portato il tempo a 140 cosa che prima non era possibile ritorniamo a 128 ritorniamo sempre a un canale magari un po' più vicino che sia a vuoto e andiamo a sentire che cosa fa il transient processor lo vediamo in modo molto generale poi vi farò un video tutorial sul transient processor allora ecco a voi il transient processor anch'esso gode di unità vettoriale chi lo sa scopriamolo insieme non ho un gode di unità vettoriale perfetto allora il transient processor funziona in tempo reale sia da expander sia da compressore ovvero se io vado ad aumentare l'attacco e il release di qualcosa andrò ad aumentare e ad espandere quelli che sono i miei transienti i miei picchi se andrò ad accorciare il mio attacco starà lavorando da compressore sentiamo come in modo molto generico ragazzi questo è un compressore senza threshold ratio fondamentalmente eccoci qua ragazzi scusate siamo tornati è andata via la luce evviva e quindi praticamente ho dovuto aspettare tutto il nostro bellissimo riavvio tutto quanto torniamo a parlare del transient processor come vedete aumentando l'attack diminuendo la release modificando un po' lo split balance che è il bilanciamento di taglio fra le frequenze basse e quelle alte sono andato a comprimere e ad espandere i transienti che mi servono e andare a comprimere quelli che non servono togliendo un po' di release sentiamo le differenze il nostro audio suona molto pulito diciamo che è un tool abbastanza carino abbastanza veloce ma a tempo stesso diciamo forse anche un po' professionale però io preferisco avere più libertà nei miei movimenti e ovviamente nelle varie personalizzazioni oltre questo ragazzi possiamo come detto già precedentemente inserire un valore per il mixer e per i bpm possiamo andare a fare un resizing del nostro channel rack vedete cliccando qui possiamo andare ad allungarlo facendo così cliccando qui diamo auto resize maximum height e questo sarà sempre così al di là di quello che inseriamo possiamo andare a dare minimum height quindi rimarrà così anche se io inserisco altre cose un attimo che sta caricando il nostro bellissimo plugin audio e voilà e vedete si allunga paro paro preciso con il mio plugin audio oppure diamo auto resize diamo off e via dando off questo diventa mobile come vogliamo voi io diciamo per comodità terrei minimum height così si apre solo quando inserisco vari strumenti poi ragazzi arriviamo alla parte bella adesso io ho questo suono vado a scriverlo tante volte un problema di FL Studio è che è sempre andato avanti a scatti allora noi che cosa facciamo attiviamo lo scrolling ok poi diamo il tasto destro e gli diciamo continuous scrolling guardate che succede il nostro la nostra playlist si sta muovendo in tempo reale se non fosse attivo il continuous scrolling si muoverebbe così a scatti invece con questa introduzione del continuous scrolling si muove in continuazione questa cosa ragazzi è fighissima ragazzi quanti di voi è successo questo allora vediamo un attimo view incremental scrolling questo diamo freccettina view incremental scrolling perché ho attivato voi state qui state modificando qualcosa di piccolo siete nel massimo zoom andate a fare questo e per sbaglio cliccate si sposta tutto quanto è fastidiosa questa cosa tanto quindi che cosa succede che noi andiamo a dare view incremental scrolling se io per sbaglio clicco qui non succede niente vedete sono rimasto nello stesso punto perché lo scrolling avverrà in modo incrementale a quello che è il mio zoom solo alla fine diventerà gigantesco ma qua se io mi trovo qui sto modificando una cosa qui di fino no ragazzi zoom al massimo sto facendo questo lavorettino qua no di fino vado modifico per sbaglio bam clicco qua e mi sposto di tutto con l'incrementa scrolling rimango sempre nello stesso punto senza avere varie rotture di scatole per questo video ragazzi è tutto queste sono tutte le migliorie apportate in fl studio 12.3 e adesso arriviamo alla parte che fondamentalmente non è audio cioè per questo video è tutto nel senso che abbiamo finito la parte audio andiamo a cliccare qui replace z game editor visualizer e qui sono state incrementate varie cosettine vedete ci sono delle grafiche personalizzate possiamo giocare con tutti questi bellissimi valori come più ci piace vediamo il debug locker vari setting stereoscopia side by side full per farlo in 3D ovviamente poi vi spiegherò la fast Fourier transformation ovvero la precisione in punti della nostra trasformata di Fourier il conto delle bande del nostro spettrogramma più aumenteremo questi valori ovviamente più sarà pesante da gestire la cosa vado ad aumentarli questo è già settato al massimo e come vedete l'audio e il video ancora più fluido poi nel main possiamo modificare i vari valori dare un audio source insert one image source possiamo deciderlo e di andare a mischiarla e varie cose ragazzi vari settaggi di cui parleremo in futuro poi per andare magari a realizzare un simpaticissimo video per la vostra traccia per questo video adesso è veramente tutto ragazzi perché vi ho fatto vedere tutte le novità apportate in FL Studio 12.3 sia audio che video se questo video vi è piaciuto lasciate un pollicione in su se questo video non vi è piaciuto lasciate un pollicione giù e studiatevi il 12.3 da soli tranquillamente vi invito inoltre a condividere questo video con tutti i vostri amici che hanno visto il 12.3 in inglese e hanno detto che ha detto amico mio e quindi io ve l'ho fatto in italiano bello bello pronto e carino e vi invito inoltre ad iscrivervi al canale proprio per non perdervi questi video qua e per non rimanere indietro su tutte le novità audio video dei vostri lavori sbam ciao a tutti ragazzi buona giornata buon divertimento buono studio